Una fame importante prima del match tra Suolo e Milano. Furono lente di bollo, tanto per non perdere peso. Stavamo senza salsa, la salsa ci piace. Diretta tanto per non abbassare il tasto del polemico. Qui dal Messicano, vicino al Mapa Estelium, ci stanno anche i personaggi dello spettacolo. C'è la fata Turchina, non so se la bella due metà della Pionza, ma insomma... Insomma, non ci facciamo mancare proprio niente dal Messicano. Adesso arriva un cheeseburgerino, proprio per dargli il colpo di grazia. E poi... andiamo con la fata Turchina a Ostadio. A Turchina, bella addormentata. Lady Oscar, chiamola come dica. Siamo presso? Posso fare un po' di servizio di ghiaccia che spacca il letto. La Turchina, bella addormentata. Lady Oscar, chiamola come dica. Ah, e dica, chi ti fa? Sembra di stare al teatro, non so. Sosso, sosso! Me ne vado a vedere la Bertina Nazionale. Oggi è partita la tosta. E poi ci ritorniamo indietro. In treno, come due bambolotti. Bellissimo amici e ce la croce. Ma secondo me, il mobilismo vale l'essere umano. Stiamo sempre in movimento. Stupendo! Hamburga? Trezburger? Sì, la vita, la tutta la vita. Bella, bella, bella.